Avrebbe subito violenza sessuale da una persona all'enota conosciuta su una chat online all'interno della sua abitazione. A raccogliere la denuncia di una ventisettenne sulmonese sono stati carabinieri della compagnia di Sulmona che stanno effettuando i dovuti accertamenti sulla delicata vicenda per la quale si mantiene lo stretto riservo degli investigatori per ovvi e comprensibili motivi. Dal racconto della giovane che si è presentata l'altra notte nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona accompagnata dal padre e dei militari è venuto fuori che la stessa avrebbe subito violenza da un suo conoscente ospitato nella sua abitazione per un arco temporale di ben sette ore. Un rapporto continuato che però stando alla denuncia della presunta vittima non sarebbe stato in ogni momento spontaneo e voluto. Per questo i sanitari hanno proceduto ad effettuare prelievi di routine per i quali si attendono le risultanze specifiche nonché tutti gli accertamenti del caso. La 27enne si dovrà inoltre sottoporre ad ulteriori consulenze sanitarie. E' stato quindi attivato il codice rosa come da prassi che permette alla donna di svolgere il relativo percorso. Sull'episodio, i cui particolari sono tutti da ricostruire e verificare nel dettaglio, stanno indagando i carabinieri chiamati a far luce sulla vicenda, a stabilire cioè se la violenza sessuale denunciata risulta o meno fondata.